Sono Iaia De Rose e sono la founder di Iaia Milano E per me essere qui quest'oggi è un enorme onore Quando ho creato il brand non avrei mai neanche lontanamente potuto immaginare Che un giorno avrei presentato la mia collezione durante la Fashion Week milanese Ho disegnato un modello di borsa Una borsa che era per me la borsa dei miei sogni Una borsa che si trasformava, faceva tante trasformazioni Per accompagnare donne vere dal mattino fino alla notte E siccome mi piacciono le cose belle ho deciso da subito che volevo veramente selezionare il meglio delle materie prime Quindi partendo proprio dal concetto della pelle, la pelle di lusso I pellami migliori, delle pelli ricercate, delle pelli che avessero una storia da raccontare E così è nata Iaia Bag, l'ammiraglia del nostro brand Che è anche brevettata Ad oggi è ancora il modello più venduto e più amato della nostra collezione Ed oggi è qui in 12 differenti sfumature di nudi, di colori neutri Che raccontano proprio la storia della verità del brand Abbiamo fatto tantissima ricerca con Linea Pelle Per trovare la giusta pelle scamosciata La giusta nappa d'agnello Che potesse realizzare la mia creatività La nostra è una filiera super sostenibile perché creiamo in made to order Quindi spediamo a casa delle nostre clienti solo ciò che è stato già ordinato Quindi non abbiamo sprechi, non abbiamo magazzini Cerchiamo di ridurre all'osso le emissioni di CO2